Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Nella scorsa puntata della Casa più Seguita d'Italia sono successi molti avvenimenti emozionanti. Oltre all'arrivo di due nuovi inquilini, Alessio Falsone e Simona Tagli, una storica ci ha lasciato. Fiordaliso ha preso la difficile decisione di abbandonare la casa del grande fratello, mettendo così fine alla sua esperienza all'interno del reality show. Durante un confronto diretto con Alfonso Signorini, Fiordaliso ha espresso il suo malcontento e il desiderio di tornare alla sua vita quotidiana. Ha riconosciuto il suo ruolo significativo all'interno della casa e ha manifestato gratitudine per l'esperienza vissuta, definendola un momento di rinascita personale. Tuttavia, ha espresso disagio nel rimanere confinata e ha manifestato il desiderio di libertà per riabbracciare la sua famiglia e respirare aria fresca. Con dolore e lacrime, ha annunciato ai suoi compagni di casa la sua decisione di lasciare il reality, spiegando che non poteva più sopportare la tensione e la mancanza della sua vita al di fuori della casa. Pur manifestando amore e senso di tradimento verso i suoi compagni, ha ribadito la necessità di andarsene per il bene del proprio benessere mentale e fisico. La sua partenza ha segnato la fine di un capitolo emozionante e coinvolgente nella storia del grande fratello. Lasciando dietro di sé un sentimento di affetto e gratitudine da parte dei suoi compagni di avventura. E voi cosa ne pensate della scelta di Fiordaliso? Pensate che possano cambiare le dinamiche all'interno della casa senza la saggia presenza di Fiordaliso? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie.